Sappiamo bene quanto pesa questa vittoria in seconda in fila e ora dobbiamo continuare così, non si deve fermare. Ogni partita è importante, anche quella a Bolzano, però ancora mancano tante partite, quindi è ancora lunga, ognuna è importantissima, quindi andiamo partita per partita e vediamo dove arriviamo. È molto importante, secondo me è più importante di tutto l'altro. Il mister ha creato già in questi pochi giorni un'armonia tra di noi, è la cosa più importante di tutto. Grazie. 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 Grazie.